Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 70 casi nuovi di positività al Covid-19, 26 di questi riscontrati tramite tampone antigenico. Al contempo si segnalano anche 15 guarigioni. Nella città di Agropoli il numero complessivo dei positivi attuali è quindi di 578. 68 positivi comunicati nelle ultime 24 ore sono indicati come asintomatici, per due non risultano disponibili le informazioni in piattaforma. Invitiamo tutti a rispettare sempre le normative anti-Covid e ad indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione. I dati sono forniti dalla piattaforma soresa della Regione Campania. Stesso numero di contagi, 70 si registrano nel comune di Capaccio Pestum. Gli attuali positivi salgono a 645 con 768 persone in quarantena fiduciaria e 13 nuove guarigioni. 22 nuovi casi invece si registrano a Castellabate e 25 cittadini guariti. Il numero attuale di contagiati è di 225 persone.